eravamo rimasti Berlinguer aveva sviluppato un ragionamento che avrebbe portato il PC su un diverso asse politico era cosciente di quanto complicato fosse spostare l'orientamento di tutto il partito sulle nuove posizioni e penso che un dibattito che avesse tre settimane per svilupparsi avrebbe ottenuto risultati migliori Beltroni ricorda che lo storico Pietro Melograni ha stabilito una connessione di rata tra quegli articoli e l'incidente di Sofia e rileggiamolo L'idea di un PCI che entrasse nell'area governativa attraverso il voto e attraverso l'intesa con la democrazia cristiana non piaceva a nessuna delle due superpotenze non piaceva a Mosca dove si temeva la rottura dei confini, dei blocchi se il PCI poteva governare perché in Polonia non poteva esserci un vero partito dei cattolici che contendesse il governo ai comunisti ma non era ben vista neppure da Washington che mantiene un atteggiamento attivamente ostile anche al governo dell'astensione e a quel governo dell'unità nazionale con una contrapposizione sia a Bellinguer che a Moro Mauro a cui toccherà pagare il conto salattissimo dell'alleanza di governo con i comunisti cinque anni dopo il 16 marzo 78 con l'aguato di via Fani ma sappiamo che quel destino sarebbe potuto toccare al segretario del PCI molti anni dopo i brigattisti racconteranno che nel mazzo di quelli da rapire oltre a Moro c'erano Giulio Andreotti e lo stesso Bellinguer che poteva essere colpito con più facilità degli altri due sempre scortatissimi e con percorsi non sempre prevedibili Bellinguer invece si spostava per Roma praticamente indifeso e piuttosto metodico nelle sue abitudini il suo autista personale donabita Alberto Melichelli ha raccontato a Fabrizio Desposito del fatto quotidiano che quando era a Roma cenava sempre a casa una sera prima di ritirarci comprami un litro di latte un giorno gli chiese perché prendi il latte e le spose mi premonisco a quest'ora il frigo è quasi sempre a vuoto pagava il latte con i soldi sempre ciancicati perciò gli regalai un portamoneto una volta lo trovai seduto a partire nel salone attorno a lui tanti libri gli dissi ma che stai combinando lui brusco stai zitto che non mi ricordo più in quale libro ho nascosto 50.000 libri grazie a tutti Grazie a tutti